ciao a tutti e bentornati alla demo di them and call us insieme a me ci sono sempre len e devil che saluto ciao ragazzi ciao a tutti ecco allora noi siamo siamo qui per farvi vedere appunto questa seconda parte di una demo che non ho idea di quanto duri ma insomma una demo quanto può durare mezz'ora voi che dite se più o meno dovrebbe però noi siamo persone speciali persone particolari per cui questa demo così come quella che ho giocato insieme a len post trauma durerà non si sa quanto due ore minimo allora ci siamo lasciati qui l'altra volta e come vedete abbiamo cambiato non so se si nota abbiamo cambiato perché non avevamo potuto salvare in quanto non avevamo trovato quello che serve per salvare la partita e abbiamo cambiato quindi abbiamo ricominciato siamo arrivati fino a qua dove abbiamo lasciato nella prima parte abbiamo cambiato la telecamera e quindi io adesso so guidare non vado più all'indietro addio giravolte addio giravolte esatto e poi si mancherà addio granchio va all'indietro perché non riesce ad andare avanti e quindi abbiamo fatto tutto nel rifare tutto il giro di questa villa e abbiamo scoperto come si salva si salva tramite dei dischi tramite un grammofono che è al piano di sopra quindi sicuramente ricorderete sì no ricordo di sopra il grammofono sì sì bene e quindi niente però adesso noi abbiamo già salvato una volta ci siamo già bruciati un salvataggio e abbiamo fatto delle piccole cose come paro paro come nella prima parte non è non è che abbiamo fatto in più però volevamo salvare prima di continuare ma non possiamo perché non abbiamo un altro disco per cui adesso andiamo avanti insieme a voi e vediamo di trovare anche il secondo disco magari per salvare quindi oppure finiamo direttamente la demo si può può essere si può essere anche se non muoio prima questo avevamo letto stranger ma non ciò fa legge questo che dice tra i simboli tra i simboli non riesce a capire cosa significhi o prima che mi dimentico e che andiamo avanti perché potrei anche morire male vi volevo ricordare di mettere un bel like ai canali di len e devil vi lascio in descrizione sotto a questo video i link ai loro bellissimi canali quindi mi raccomando spippolateli guardate i video condividete mettete la ricche seguiteli perché vale la pena è attivata la campanella pure attivate anche la campanella certo qui ci stanno un paio di bernardoni di bernardoni occhiali niente a parte vecchi libri e files ok anche occhiali vero calice si sono persi libri e c'è un dice che c'è una una luce che proviene da dietro questo scaffale quindi magari un passaggio segreto no dai non mi fanno fare queste cose minimo se ci fosse un passaggio vuoto dietro ecco quindi minimo c'è un'orda di zombie dietro posso dire qui c'è un mezzo posso trovare un oggetto da posizionare lì non saprei qui c'è un libro di sangue scritto col sangue si una setta ma non riesce a capire cosa c'è scritto è meglio da meretta bella de casa è meglio qui qualcosa può essere piazzato qui a dice manca un pezzo però ma che cos'è ma non lo so non vedo una ceppa è tipo allora dentro c'è tipo una testa di qualche animale un leone non so ma testa sembra una targa da stilar dentro e sono di questi libri scritto in inglese quanto te capisco guarda quando non me fanno non scrivono le cose in inglese ma quanto mi fa rabbia qui c'è un coltello da rituale esatto esatto il mio cioè me vogliono spanza praticamente ma speriamo di no ecco qui c'è una maschera tribale una specie di maschera tribale ok qui abbiamo i libri vecchi e qui abbiamo la scala e abbiamo visto l'altra volta però che è rotta però qui abbiamo preso lo zaino avevamo preso l'altra volta qui ci sono dei dipinti è il guarnello e pomello esatto qui e c'è un'altra teca ma qui sinceramente non vedo forse un badocchio a questo era quello con la piccola il buco per la piccola chiave dorata anche non abbiamo esatto sa stava sembra una statua da culto sarà il maestro questo ma questa roba qui ci possiamo mettere seduti e riprendere un po fiato io metterei subito e invece lei ti dice ti dice che la vita allora qui se può fa niente anche qui riflettiamo sulla vita no ti dice che non c'è tempo per riposare ho capito bella di casa è però è dove fa tutto io qui c'è un oro lollo che non funziona il severo male non vedo però ogni volta che lo guardi ci si c'è un lampo è vero è vero è vero ma se non siete contrari io andrei a vedere di mettere il pomello o no sì sì vediamo cosa c'è la stanza prima di prima di rispostare questo come avevamo fatto ancora subito e c'è la pistola qua dentro sei sicuro a essi oppure hanno senti tanto lo sposto come l'altra volta no mettiamolo che poi lo sposto per fare cosa non ho capito dunque spostiamo lo devi spostare per forza tutto fino in fondo fa tutto da sola da sola vedi io non sto facendo niente a quel bel quadro non abbiamo rivisto con quel con quell'hobbit sopra il camino c'è pure quel simbolo strano sopra sopra al camino vedete sopra il quadro proprio alle candele ma tu vuoi salire su questa tica per salire le scale uno no non ci posso andare quindi secondo me siccome sopra e forse questo è il diciamo proprietario del della magione giusto è grottesco perché per le orecchie è non lo so poverino cioè perché cosa cosa di strano vedete che lì sopra secondo me e siccome sento un rumore di zombesco tipo sa che e la scala balli probabilmente dobbiamo fare qualcosa sopra credo solo come ci se va sopra questo è tutto da capire che cos'è il suo rumore sacco dietro ma anni no allora volevo anche vedere il suo quadro ecco a strange painting mi viene in mente qualcosa no forse un posto che ancora non abbiamo visto sì insomma sembra che qualcuno fosse lì per spostarlo da qualche parte ma è il quadro quadro è una considerazione sua non so se serve qualcosa allora andiamo a mettere il pomello oppure andiamo prima in bagno devi fare baby no abbiamo trovato un oggetto può essere d'aiuto il bagno era giusto era qui mi pare era quello era questo il bagno no l'altro questo non può essere il bagno ragazzi ma non ha indietro questo meno male che c'è sanno loro perché io tutte e se volte ma chi si ricorda allora qui abbiamo accendino esatto perché c'era e c'era il a giusto giusto c'è la cremina la cremina la prendiamo e vogliamo prendere non penso che l'accendino ci servano quanti spazi hai e c'è ancora uno spazio potendo faccio vedere uno solo allora forse meglio a lunguento sapete cos'è la vita vedi 20 per cento in più la puoi prendere marlo come faccio scusa devil esamina se ha giusto ti aspetta aspetta perché devo fare scusa devo fa un po mouse un po pad esamina mentolo e salvia e ma efficace ad in arlo è più efficace se lo combini con una benda a quindi non posso usarlo così però o sì e dice che più efficace se lo fai con una benda quindi magari se magari lo usi anche così però la benda più efficace però adesso stai bene sì sì adesso sì che te frega sentite la romanaccia che te frega eh sa diventare romanaccia eh ma già poi dicono che eh ma lei era tanto carina parlava tanto italiano inglese ma non lo so qualcuno che va con lo zoppo eh impara a zoppicare tese in altro eh vedi vedi eh allora abbiamo detto anche andava a mettere il pomello il pomello perché queste stanze come abbiamo visto nel primo nella prima parte di questa demo non si possono aprire sono tutte chiuse e servono le chiavi e hanno tutte dei simboli marte venere plutone nettuno e bla 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 qui c'è un pomello storcignacolo che può darsi che possiamo usare questo aspetta non si sa ma non si sa noi andiamo così ad gazzum e ce lo proviamo e abbiamo avuto l'intuizione giusta dagli e così o però dentro ci sarà inferno lo scopo occhio 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 a terra e cala a porca 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 ma siamo proprio tutti ma signorina ma lasci fare va perché sei felice di vederci però ti vedeva però che la felicità questa così pare un po troppo come siamo messi no si apre no è chiuso dall'altra parte giusto non ho letto ma di vado a volevo evitarlo però ci sono anche dei corvi e si è corvacci mai detti cioè ma non abbiamo la chiave ma scusa ma non la bevamo siamo in un'altra stanza forse qui l'accendino ci serviva rega porca pozzo affasciatissima tutto buio l'acquilibri chiave abbiamo un'altra chiave attenzione la chiave è 1 e tu lo stava sotto giusto sì o un altro caricatore ma stavista non abbiamo trovato infatti ma posso dire salve the fire is still it lit è ancora acceso grazie lo sappiamo viene ma 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 quando ma ma quante bene quante bene mi fai vedere tutte le ha messe tutte insieme e no e no mannaggia pro ha combinato giusto vediamo 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 combina con queste dai e grande il grande devi solo che così e consumiamo tutti insieme in una botta sola e aspetta di essere quasi morta grazie quindi prevedi che sarò quasi morta tanto caruccio ma una pistola me la dave se tutti gli aspetti forse non le userai ma così è scusi vedo una giustadina la gravata ecco vedi vedi che si è applicata allora questo cosa la flashlight e dove viene però è un grazie mi sembra pagare ma c'è la già equipata però con la e forse non è seguito con la f agi baglie io ma lei è sì sì tanto non è come in auto per la stacchetti finisco le baci ragazzi il disco il disco non possiamo prendere nient'altro e lo dico magari troviamo un altro zaino è arrivata allora questa è chiusa all'altra parte questa pure sicuramente ma lei non cali puzzola in fascia di sim e mo siamo fuori magari una mascarciatoia ok ho fatto il giro a giusto e lì abbiamo visto tutto giusto qui ma non te li nata e cadaveri na vi ricordate che qui lei non aveva letto cosa c'era scritto sulla porta dove qui che trovi che sto allen che cosa c'era scritto e lì ha detto non ho in tempo abbiamo fatti il giro perché ok allora sediamo giusto sì ok si chiediamo a salvare e si chiediamo a salvare perché se schiatto adesso tocca rifà tutto da capo ragazzi io lo dico è per sfiducia ma allora no è che dunque qual era la questa è nettuno abbiamo questa chiave noi è però aspetta è qua dovrebbe essere la porta o c'erano zombie la senti la musica len no 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 vedi adesso che ci dice vuoi usare il vinile e aspettate che facciamo stiamo giocando a normale faccio notare che stiamo giocando a normal ecco a posto adesso c'è un altro tipo di musica la senti no forse bassissima forse forse perché ho abbassato molto l'audio perché avete detto che era no magari solo la musica allora adesso ragazzi penso che dobbiamo andare a nettuno perché io ipotizzo che nettuno ci porti nel mare nel mare si va per troviamo da che ecco ho ipotizzato bene vedi che sotto c'è la stanza nostra è solo quello forse tu salti allora sulla cassa e poi prende la pistola e non lo so adesso vediamo che dobbiamo fa visco ma viscose ma lasci fare che le do una ripassatina giusto per mettere a posto se deve vomitare vomiti vero questo casino abbiamo capito che la protagonista è di belle fattezze però cioè non ne approfittate no fatti e chi è qui che dice qui qualcosa può essere messo anche qui ecco io invece avevo letto riposa in pace quindi proprio il mio english for for the people for the people allora vediamo un po spippoliamo un po in giro qui tutti questi libri sono scritti in qualche linguaggio straniero io non capisco perché non sono inglese non può leggere nessuno di quei linguaggi cioè ma tutto nel di conto ecco la scala possiamo prendere questa scala a la devi abbassare ecco perché e magari abbassando la sfacchila no no perché questa stanza prima quindi a qui possiamo scendere abbiamo sì abbiamo sbloccato qui ha già è quella rotta dove abbiamo messo il questo si può scegliere bush questa è proprio una scena di ready di residenti versi e allora questa bisogna farla cadere sulla teca qui sotto a te e possiamo prendere la pistola aspetta prima prima spippoliamo è un'altra chiave attenzione vecchia stiamo andando speditissimi proprio è sul giro si è quindi lasciate già like per questo ma la la torcia è accesa a nostra spenta sta deficiente scusate non si vedeva e no ma ma c'è c'è ragione perché già è buio su gioco e push amola no la bussiamo i push 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 usciamo usciamo mi spiace per la sala magari va nel sacco di soldi o finalmente adesso cosa c'è cosa è successo sì però adesso stavamo la teca chissà se la poteva buttarò sta è vero sì però adesso il fatto di prendere la pistola non è che a me mi tranquillizzi poi molto ve lo dico perché il gioco cadrà nei soliti cliché e si dice che appena prendi la pistola una tragedia anche perché abbiamo un caricato due caricatori adesso 18 colpi mi pare secondo me o che usciamo da sta stanza c'è il comitato d'accoglienza perché ci abbiamo la pistola capito dico dico io dico io le dico adesso ci sono colpi dentro assi 7 quindi non combino non combino perché se ne porta solo 7 ho paura di sprecarli poi cioè non so se mi li mangia no no infatti tienili così però a vita siamo cauti on cauti on siamo a vita fai vedere quello lì ti ha fatto un po male però ce l'abbiamo io però a questo punto equipaggerei la sex pistol che dite voi così proviamo anche la sex pistol baglie però non c'è un oh ma ecco non so di non c'è la pistola sì sì c'è la possibilità ci abbiamo sia la pistola vedi ma è anche il coltello infatti stavo per dire ma non c'è la possibilità di avere entrambi aspetta però non è che si rompono se te che no penso che magari che lo avrebbe detto beh oddio non è che sia proprio intuitivissimo questo gioco ma qui c'è un'altra chiave lega e mo ma da ecco cosa inquadrava prima dicevo ma perché ha fatto inquadratura e se proprio a combattere l'unguento l'unguento con le bende proviamo proviamo aspetta dovevo uscire da qua però secondo me l'unguento l'unguento ti fa aumentare del 20 per cento la salute per quello c'è scritto 20 per cento però però vabbè questa è la demo lo combiniamo con le bende perché dice comunque combinato con le bende fa più effetto e a quelle l'abbiamo combinato però però purtroppo ci mangia lo stesso ascolta poi come si dice esaminare la chiavetta lì quale quella che a terra o questa qua quella 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 sì questa ok ma no è una piccola chiave consumata sai dove questa questa è quella del cancello che da fuori dove i cani abbaiano diceva con un bucchetto può essere che però però è rischiuso andare e lì o lasci giù l'unguento e lo viene a prendere dopo ma giusto lasciamo un guento è perché la cosa che serve meno ok lasciamo un guento hai detto voi siete responsabili della mia vita io vi dico ve lo dico allora adesso la chiave lì che cosa è fatti sono venus abbiamo un'altra stanza attenzione venus stava che scusate non mi ricordo questo piano ha sempre qua siete pronti per il comitato d'accoglienza vai vai e se c'è certo vai 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 è un classico è un classico quando prendi un'arma gg op classico in tutti i giochi adesso è finita la demo ah arrivano anche cose belle dopo che sono delle cose belle è una setta vedi che è una setta è una setta e mi sa che hanno risvegliato belle cose so di più so pure di più infatti è un esercito e niente no grazie no no grazie no no grazie e niente ragazzuoli abbiamo finito la demo adesso che si faceva interessanti giustamente ma tu sei contenta perché non te la sei dovuta vedere con tutti bene io volevo vedere come sparava la pistola ma non è giusto forse forse dovevamo potevamo provare a sparare qualche colpo capito ha capito anche a che sparava i quadri niente comunque che ne pensate voi di questa demo perché comunque il gioco è disponibile su steam in italiano pure a sì e perché la demo in inglese e perché le demo così sono ma io sono contenta perché l'inglese lo massico benissimo per cui anzi sono contenta quindi io lo apprezzo perché comunque mi ricorda anche resident evil mi ricorda salentino poi è fatto bene per carità è un po macchinoso da giocare anche soltanto guardato mi rendo conto che non è proprio immediato come comandi e tutto però bello ma sì ma è un po complicatino e c'è un piccio ma poi ti offre pure due tipi di visuale anzi pure più di due perché c'è anche la visuale in prima persona sì è vero è vero che non abbiamo messo perché ci sembrava più carino così poi un po magari me in piccia dopo andiamo troppo però quella del c'è quella dell'altra volta era oggettivamente abbastanza ingiocabile fatta così però però me la soccava da meglio non so perché riuscivo a a stare più distanziata dai dai zombie che non mi hanno mai preso nella nella prima parte mentre qui mi hanno preso è vero però vabbè ci sono i propri particolari questo perché ti sei sopravvalutata vabbè ma io ma si sa che io sono gg vai non sto scherzando io so probabilmente io sono una nuba proprio nabba nuba comunque per gli amanti dei survival horror pure vecchio stile secondo me è un acquisto azzeccato sì infatti sì cioè per anche anche perché questo è proprio l'hanno detto e sviluppato di stesso che è proprio ispirato a resident evil molto probabilmente perché anche loro come tanti altri sviluppatori si ispirano proprio sono fan di resident evil silent hill per cui i giochi so più o meno simili comunque simile meccaniche parecchi di voglia voglia si si ispirano anche se tutti tutti ci aspettiamo il nuovo silent hill nuovo insomma nuovo fran grossi virgolette ma quello che uscirà fuori uscirà fuori però ma pure un remake anche un remake andrebbe bene certo ci aspettiamo di vederlo sul canale di len perché devil certo non è proprio avvezzo agli horror devil oppure mi sbaglio no non portato sono allergico ai papà allergico è allergico devi allergico a agli horror però quello che invece vorrei che voi diceste è cosa portate sui vostri canali in modo che le personcine per bene che ci seguono che guardano il video sul mio canale perché sta sul mio canale sappiano cosa portate anche voi in modo che vengono a farvi un saluto a parte iscrivetevi mi raccomando i link vi ripeto li ho messi in descrizione sotto a questo video però vorrei che vi presentaste len e devil quindi devil che tipo di giochi porti tu sul tuo canale allora io principalmente dovrei portare avventure grafiche sia vecchio stile un po pixel user sia ma soprattutto un po più recenti cioè recenti si fa per dire che sarebbero sempre di dieci quindici anni fa insomma ma anche recentissime e poi cerco di spaziare tra i vari generi pure fps oppure giochi d'azione ma sempre il tema principale sempre un'avventura diciamo ma a proposito di fps che fps giochi tu perché se si può giocare a qualcosa in coppa facciamolo no e ma in coppa no 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 il single player ci riesco coppano è un po difficile un po più difficile vabbè 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 poi magari ci torneremo più in là ma comunque ho portato pure io sul mio canale qualche oro certo ma non è non è resident evil o silent hill però portato pure un silent hill 2 un assaggio ah beh vedi retro gaming quindi insomma si cerco di diversificare un po i generi ma sì ma sì ma sì l'importante è giocare divertirsi poi che te ne frega io pure io 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 porto un po di tutto tranne proprio quello che non è proprio nelle mie corde proprio che dico meglio che lascio perde perché sennò io qui faccio proprio schifo però in generale io porto un po di tutto non è che mi sto a fa perché uno poi perché si rompe pure un po le palla porta sempre un genio hai capito infatti 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 e invece tu len presentaci il tuo canale in modo che così vengono già preparati molto semplicemente io porto giochi a caso giocando a caso no nel senso che io mi diverto a giocare un po di tutto però prediligo l'horror le cose con cui magari sono cresciuta tipo resident evil giochi proprio che insomma con cui mi faccio paura da sola perfetto però di base di base cerco di provare anch'io un po di tutto al momento sono confinata con la ps4 quindi porto quello che mi è possibile giocare sulla ps4 però cerco appunto di andare essenzialmente sulle cose che mi piacciono che mi piace giocare di solito sono horror se no è capitato anche di giocare altre cose tipo gli uncharted dipende in questo momento sta giocando un giocone sì il penultimo gioco è stato life is strange però in questo momento sta portando the witcher 3 che è un giocone the witcher 3 sì sì un giocone infatti quella è una cosa che non avevo mai provato è un gioco proprio un tipo di gioco che non avevo mai provato e mi sta piacendo moltissimo rpg esatto esatto mentre devi il tuo adesso stai portando io adesso sto portando sia il primo monkey island però fatto con una modifica per farlo col doppiaggio e sia half life 2 episode one ecco quindi se siete interessati questo è tutto retro gaming in pratica no? sì esatto quindi purtroppo sarebbe vabbè però ci stanno gli appassionati qui certi titoli poi penso che siano proprio intramontabili sì sì il retro gaming è una cosa che io ho apprezzo tantissimo ci stanno i cani qui a them and us allora e invece len tu oltre a the witcher 3 stai portando resident evil revelation revelation è il primo sì dove c'è? il suo cavallo di batto dove c'è? dillo dove ci sono gill e chris e poi come compagni d'avventura giuessica e farker mi fa morire come dice giuessica fantastica 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 quindi ragazzi io ringrazio len ringrazio devil per aver partecipato a questa piccola grande lungherrima demo e invito di nuovo tutti quanti voi ad iscrivervi ai loro canali e fateci sapere anche se voleste altre coppe tra noi tre vedete? eh anche sì sì anche anche il gioco questo qui io in particolare non ce l'ho però per esempio io ho altri giochi o anche devil ha altri giochi che possiamo comunque fare in coop come come questo su pc parlando di pc perché len ha la ps4 ecco poi quando len avrà anche lei il pc len ci condividerà la schermata e lei giocherà e io e devil ci diverteremo a guardare non giocheremo a giochi dell'orrore vabbè giocheremo avventure grafiche giochi tranquillini giochi tranquillini ma anche sì ma comunque spaziamo non è che dobbiamo fare solo gli horror facciamo anche qualsiasi altro genere anche un punte clicca si può fare il prossimo gioco anzi io dico che secondo me questa coppia è bell'errima per cui secondo me il prossimo gioco lo potrebbe scegliere anche devil va bene ma lo vediamo va bene? sì sì e intanto voi fateci sapere cosa ne pensate di questa demo del gioco se l'avete giocato perché non è è già uscito da un po' quindi non è recentissimo quindi niente fateci sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo alla prossima copp e al prossimo video vi faccio salutare da len ciao ciao a tutti da devil ciao a tutti e da me ciao a tutti alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti